Dovremmo partire dal detto chi cerca trova per capire perché l'Abruzzo sia la regione italiana con l'incidenza più alta di casi covid che supera quota 1000 per 100.000 abitanti su base settimanale. Significa che più tamponi si fanno e più positivi si scoprono e in effetti numeri alla mano secondo i dati del report del ministero della salute pubblicati sul quotidiano il centro l'Abruzzo è la regione che effettua più tamponi in Italia in rapporto alla sua popolazione di 1.285.000 erotti abitanti. I numeri alti però non devono lasciarci impressionare perché a fronte della crescita dei contagi la pressione ospedaliera resta stabile e l'occupazione delle terapie intensive rimane al di sotto della soglia di allarme. Merito dei vaccini secondo quanto emerso anche dallo studio del professor Lamberto Manzoli epidemiologo pescarese e docente dell'università di Bologna. La sua ricerca sull'efficacia dei vaccini realizzata in collaborazione con la regione Abruzzo, la ASL di Pescara e l'università di Ferrara è stata recentemente pubblicata su una prestigiosa rivista scientifica internazionale e ha rivelato come i vaccini siano stati un'efficace protezione contro la variante Omicron evitando l'80 per cento dei casi gravi o mortali di malattia pur non fermando l'infezione e dunque i contagi. Secondo lo studio del professor Manzoli con due o tre dosi di vaccino il rischio di contrarre una forma grave della malattia scende dell'80-90 per cento. Il nostro studio che ha preso in esame tutta la popolazione abruzzese un milione e trecentomila abitanti quasi trecentomila un po' meno e a quello che abbiamo visto con il primo studio al mondo proprio su questo che i vaccini continuano a essere i vaccini attuali e sono molto efficaci molto efficaci perché abbiamo di un 85-90 per cento anche contro la variante Omicron. Abbiamo visto una protezione del 90 per cento contro ricoveri ed eccessi poco contro l'infezione purtroppo lo sappiamo l'abbiamo visto un po' tutti una efficacia intorno al 30 per cento. Va detto però che le persone non vaccinate non potevano col green pass non potevano uscire mentre le persone vaccinate uscivano e quindi era più facile che si infettassero le persone vaccinate. Quindi probabilmente l'efficacia dei vaccini contro l'infezione sarà intorno al 50 per cento. Noi abbiamo osservato un 30 però c'è questo. Comunque sì sappiamo che questi vaccini funzionano bene contro gli effetti gravi della malattia non tanto contro l'infezione. Si parla di una quarta dose eventualmente di altri vaccini che a settembre nel prossimo autunno potranno essere tra virgolette aggiornati nei confronti delle nuove varianti che nel frattempo si sono sviluppate. Cosa succederà a settembre? Lei chiede a si è fatto. Se ci saranno altre varianti probabilmente ci saranno e se ci saranno dei vaccini specifici per queste varianti allora ha senso una quarta dose. Con i vaccini attuali già abbiamo visto anche noi due dosi o tre dosi hanno avuto una efficacia ottima quindi per il momento insomma a meno di persone particolari persone che non hanno avuto una risposta questo è un altro discorso però diciamo nella popolazione generale al momento coloro che hanno fatto due o tre dosi sono ben protette per il momento chiaramente. Il suo studio ha preso in considerazione anche le reinfezioni da covid. Che dati avete? Sì una parte dello studio è stata centrata sull'immunità naturale, i guariti insomma. Abbiamo visto che l'immunità naturale è molto buona. La probabilità di reinfettarsi è bassa intorno all'1-2% ma soprattutto la probabilità di avere una seconda malattia grave è molto molto bassa e noi siamo arrivati fino a 18 mesi quindi l'immunità naturale è molto buona e dura fino almeno a 18 mesi non sappiamo ovviamente dopo.